a chi non piacciono queste meravigliose brioche super soffici con delle gocce di cioccolato al loro interno i pangocciole ad adulti e bambini ora vi spiego come le ho preparate ne ho fatte tantissime ma questa è la ricetta migliore ho messo tutti gli ingredienti nella planetaria a partire dalle uova il lievito il latte e lo zucchero le ho fatto sciogliere bene bene il lievito e poi ho aggiunto la farina tutta insieme ho fatto amalgamare bene il composto e poi alla fine ho aggiunto il sale e il burro l'ho fatto lievitare per due ore poi ho formato i panini che hanno lievitato ancora per 30 minuti poi li ho spennellati con un tuorlo d'uovo e un goccio di latte intero lo spennellato sopra e poi li ho infornati a forno già caldo a 170 gradi per 25 minuti forno ventilato e questo è stato il risultato guardate la morbidezza adesso vi scrivo gli ingredienti qui sotto provateli e poi mi direte